Buongiorno amici e ben ritrovati alla seconda puntata in compagnia della DL Auto via Garibaldi 22 a Borgaro Torinese. Questa volta non approfondiremo il discorso azienda, non andremo all'interno dei nostri showroom, ma ci fermeremo all'esterno per vedere il nostro eccezionale usato. Venite con noi, scopriamolo insieme. Iniziamo la carrellata con una splendida BMW 420 Grand Coupé M Sport. Pensate, questa vettura ha soltanto 88.000 km ed è il 2016, 2.000 turbodiesel e costa solo 22.950, interamente finanziabili con anticipo zero. E continuiamo, BMW 320 Touring, cambio automatico del 2013 con pensate solo 83.000 km, 13.950 anche questa interamente finanziabile, furto, incendio, cristalli, grandini, attivandalici ed estensione della garanzia all'interno del finanziamento. Ritiriamo l'usato, anche l'usato che vale zero. E continuiamo nel nostro mondo dell'usato, Volkswagen Golf 1500, cambio automatico allestimento business, pensate, introvabile, a metano del 2020, km 0 a soli 22.800 euro. Anche qui vale la stessa regola, quindi ritiriamo l'usato, ritiriamo la rottamazione e finanziamo tutto con anticipo zero. Fiat Tipo 1.6 Multijet Start & Stop Station Wagon del 2017 con soli 21.000 km. Quest'auto è praticamente perfetta come nuova, in garanzia ufficiale casa madre, due anni con un'estensione di garanzia all'interno del finanziamento, prezzo 10.950 euro. Anche qui ritiro usato, ritiro rottamazione. Via Garibaldi 22, ve lo ricordo sempre, veniteci a trovare per visionare e provare questa splendida vettura. E per chi adora la sportività, la cattiveria e la grinta di quest'auto, Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD, 120 cavalli allestimento sport, splendida, del 2018 con 23.000 km. Il prezzo è 15.500 euro, anche qui anticipo zero, interamente finanziabile. Alfa Romeo Giulia questa volta, 2.200 turbodiesel, 150 cavalli, cambio automatico, 8 marce, pensate, aziendale del 2017 con soli 29.000 km a 20.400 euro. Furto incendio nella rata, ve lo ricordo sempre, per tutto l'usato, per tutte le nostre auto. Toyota Corolla 1.8 Hybrid, quindi benzina ed elettrico del 2019 con soli 10.000 km, pensate, auto assolutamente aziendale, in garanzia ufficiale casa madre, 5 anni, cambio automatico, full optional. Venitela a provare perché è veramente un prodotto strepitoso, 21.900 euro la richiesta, ovviamente anche qui ritiro usato, ritiro rotamazione, finanziamento personalizzato. Continuiamo il nostro viaggio nel mondo Fiat, Fiat 500 X 1.3 Multijet da 95 cavalli, l'allestimento è un launch di luglio 2018 con soli 38.000 km, il prezzo 14.900 euro, interamente finanziabile, senza anticipo, con furto incendio, cristalli grandi e nati vandalici all'interno della rata, estensione di garanzia, prodotto 360 gradi, full per questa vettura. Continuando nel mondo Fiat 500, questa volta 500 L, 1.4 benzina da 95 cavalli, l'allestimento City Cross, top di gamma, la più bella praticamente, aziendale, del 2019 km, 16.000 percorsi, prezzo 13.450, anche qui ovviamente ritiriamo il vostro usato, anche quello che vale zero, anche qui interamente finanziabile, con assicurazione furto incendio inclusa, estensione di garanzia inclusa e manutenzione per tre anni inclusa nella rata. Jeep Compass, 2.000 Multijet, 4x4 allestimento Business, soli 24.950 per quest'auto del 2019, pensate, con solo 18.000 km percorsi, auto aziendale, full optional, veramente, veramente da scoprire, bella, da provare, veniteci a trovare, via Garibaldi 22, Borgaro Torinese. E pensate, solo 14.450 euro per questo stupendo Qashqai, benzina, allestimento Tecna, quindi quattro telecamere, anticollisione frontale, clima radio bluetooth, misto pelle, insomma, full optional, del 2016 con solo 89.000 km percorsi, cambio automatico, un'auto veramente, veramente da scoprire. Passateci a trovare, anche qui ritiriamo il vostro usato e ritiriamo l'usato che vale zero. E per chi volesse il massimo del comfort, dello spazio e della comodità nel viaggio, X-Trail, quindi Nissan X-Trail 1.6 turbodiesel, 4x4 allestimento Tecna, top di gamma, full optional, a soli 11.900 euro. È un'auto del 2014, anche su questa ritiriamo l'usato, anche l'usato da rottamare, interamente finanziabile, senza anticipo e con tutti i servizi all'interno, quindi furto e incendio, estensione di garanzia e manutenzione. Fiat Talento 1.6 biturbo, 125 cavalli. Questo è un passo lungo, da nove posti. Pensate, del 2018 solo 44.000 km percorsi. È un nove posti ideale per la famiglia. Adesso arrivano le vacanze, ripartiamo alla grande in tutta comodità. Prezzo 17.950, anche questo interamente finanziabile. Ritiriamo l'usato, anche l'usato che vale zero. Io lo ripeto sempre, perché è un concetto importante, anche l'usato che vale zero, su tutto il nostro parco auto. Ben ritrovati amici al proseguimento del nostro viaggio all'interno dell'usato di L Auto. Ripartiamo da una Toyota iGo, splendida, a mille di cilindrata, del 2015 con 74.000 km. Il prezzo, pensate, è solo 6.850 km. Anche qui sembra assurdo, ma è così. Ritiriamo l'usato, ritiriamo la vostra rottamazione. Non poteva mancare all'interno di DL Auto, naturalmente, anche la piccolina, la 500 di casa Fiat, 500 del 2018 con 15.000 km, benzina, a soli 9.850, interamente finanziabile con anticipo zero. Ancora 500 Lange, questa volta del 2018 con 20.000 km, full optional 9.800 euro. Sono auto tutte in garanzia ufficiale casa madre, sono tutte auto da provare su strada. Vi invito veramente a venirci a trovare in via Garibaldi 22 a Borgaro Torinese, ma solo per rendervi conto realmente della qualità dei prodotti che abbiamo in DL Auto. Fiat Panda, 1.2 GPL questa volta, allestimento Lange del 2019 con 16.000 km. È un'auto aziendale interamente garantita da casa madre per due anni, tre anni di manutenzione all'interno della rata, l'assicurazione furto incendio sempre all'interno della rata, ritiriamo l'usato, prezzo 9.900 euro. 8.650, sì, proprio così, 8.650 per questa strepitosa Panda del 2019, 17.000 km, 1.2 benzina allestimento Lange, quindi anche qui clima, radio, bluetooth, viva voce, chiusura centralizzata, alza cristalli elettrici. È un top di gamma, ripeto il prezzo, 8.650, interamente finanziabili. E per chi invece fosse amante del fuoristrada dello sterrato, Fiat Panda Twin Air 4x4. Questa è un'auto aziendale del 2019, luglio 2019, ha percorso solo 18.000 km, costa solamente 12.850, è incluso nella rata, come sempre, tutti i nostri servizi. Questa vettura, venitela veramente a provare perché c'è da divertirsi. È un 4x4 assolutamente strepitoso. Fiat Panda ancora 1.2, l'allestimento Easy, questa volta del 2019, con 39.000 km, 7.700 euro. Anche qui, ritiro dell'usato, usato da Rottamare, interamente finanziabile, con anticipo zero. Fiat Idea 1.2, allestimento Black Label, del 2007, con solo 70.000 km percorsi. Sono originali, interamente tagliandata, in garanzia ufficiale, il prezzo, 2.950 euro. Venitela a scoprire perché è veramente, veramente un ottimo usato. Siamo arrivati, amici, al termine di questa puntata, di questa ennesima puntata con DL Auto. Vi ricordo solo l'indirizzo in via Garibaldi 22, a Borgaro Torinese. Ovviamente quello che avete visto è solo una piccola parte della grande disponibilità dell'usato che abbiamo in DL Auto. Per un discorso di tempo, naturalmente, non è stato possibile mostrarvi tutto. Abbiamo ancora un'infinità di grandi punto e di altre macchine per tutte le tasche, per tutte le necessità. Veniteci veramente a trovare e a scoprire il mondo DL Auto. Vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata.